Il brano è difficile da spiegare Il brano è un piccolo stile minimalista, in realtà nasce come un quadro, cioè sarebbe da filmare un quadro, l'inferente quale, questa è l'idea, chiaramente non il benzinaio, il butantestima o qualcos'altro, e questo praticamente è un pezzo, è difficile da spiegare, è un pezzo scritto per lui e quindi si adatta a questa situazione, c'è anche la sveglia, c'è un po' una serie di... E quindi penso che è veramente solo d'ascolto, sarebbe da guardare un'immagine, penso con qualche immagine, tutto qui c'è molto da dire, comunque vorrei presentare questo... Lui è un asottista, pianista per caso, ha detto... E poi non ci potrete, ma penso cominciare... Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.